Ganna e premio grandi di Yegahaya Turcos Upgrade per un paquete di internet oppure applicato per un bundle di papilla oppure upgrade per un paquete di TDS Gli amici di Sera 91677 e si le instruccionano per ottenere un chance per ganna e premio grandi di Yegahaya Turcos che consistì di un BlackBerry Torch con 500 forini a credito di Yamada un computer all in one e un Aia gratis di internet di 26 MB un iPad e un Aia di internet gratis un telefono cordless e Yamada nel lokal illimitato gratis per un Aia un television HD un PBR decoder un paquete di Pay Per View di Festival di Tumba e un Aia gratis e paquete TDS Basic Plus e ademais 10.000 florini cash També ganna premio instantaneo Mas boi ama, mas chance di ganna botim Yama 0917777 e ganna il premio grande di Yegahaya Turcos e linea Aki te costa 99,5 minuto usando qualche telefono fijo di UTS off vocepi visita www.uts.an a condizionan di campagna di cara servizio